Siamo già quasi arrivati, guarda la casa è in fondo Ah è vero, è lì Ma ci stanno aspettando fuori già Cavolo Guarda Questa volta c'è andata proprio bene, non dobbiamo aspettare due ore per colpa tua Tesoro, abbiamo fatto bene Ad aspettarli fuori Te l'avevo detto che erano loro, te l'avevo detto Il signore del TG arriva Buongiorno Buongiorno Sì sì vi aspettavamo Ma meno male perché ieri era suo fratello Sì era mio fratello Ci ha fatto aspettare fuori due ore È stato veramente lento E beh se voi andate senza preavviso Va bene, allora possiamo iniziare con la casa Sì Le hai già spiegato Le hai già spiegato perché stiamo andando nelle case? Sì 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 ma ha detto che state facendo un sondaggio della casa più bella Sì praticamente Stiamo visitando tutte le case del quartiere Per vedere poi di valutare la più bella non saremo noi a votarla ma sarete voi dalla televisione a votare la casa più bella mi raccomando ecco intanto abbiamo il cameraman dietro che sta riprendendo e intanto io ho fatto l'annuncio bene allora inizia a riprendere la casa e poi così montiamo il tutto ok va bene ma dov'è mister Cigi qua? uffa si sto arrivando ma cosa stava facendo? ho preso la telecamera no? ah ok allora qui siamo all'ingresso molto bello possiamo entrare? si si prego prego questo immagino che sia il salotto vero? il salotto qua la cucina molto piccola però bella si si è molto piccola qua c'è la cucina anche questa molto bella si stavo anche cucinando ok adesso c'è l'ascensore che chiamerò prego prego ecco adesso saliamo mi pare una scena di Romeo Giulietta non lo so io qui ho il piano di sopra c'è la camera nostra da letto mannaggia mi lascia sempre le magliette in giro mi scusi eh vabbè fa niente qua c'è il bagno molto carino e lì c'è un mini studio truccatoio truccatoio? si è una stanza diciamo dove avevo anche la culla ok adesso saliamo su andiamo al piano di sopra su c'è la terrazza? no l'abbiamo modificata anche voi? sì siamo in troppi la casa come vede è piccolina non ci siamo non ci siamo così figuriamoci se non l'avevamo modificata ok andiamo? sì dai ecco qua questa è la stanza dei bimbi molto bella anche questa ciao bimbi ciao bravi bimbi eh mi raccomando molto bella anche questa sì è abbastanza spaziosa l'ansia è la più grande però i bambini la camera dei bambini è sempre più grande sì anche nell'altra casa avete finito? sì abbiamo finito oh velocità la casa è molto piccola però è carina ah perfetto allora posso anche questa modificata ah non vedo l'ora di vedere il video allora posso intervistare la signora di casa? certo certo ok la ripresa non vedo l'ora di vedere il video lei è la signora Fontana ah Fontana anche lei è vero sì è vero abbiamo visto l'altra casa Fontana ieri nome Barbie in quanti siete in famiglia? noi siamo in sette ah però mazzateo sette sì i due bimbi sopra che poi vedrete nel video c'è Skipper Stacy mio marito io e la piccolina ah invece sto cognata è incinta sì lei è incinta ma cosa avete fatto i doppioni non lo so anche loro sono quasi in sette sì ci siamo andati vicinissime la casa mi stava dicendo che è piccola sì è molto 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 piccola per noi e d'altronde vabbè ciao oh chi è Stacy mi scusi mia figlia Stacy ciao Stacy ciao volevo direvi di un messaggio eh sì dici tutto Stacy riprendi tutto mi raccomando eh eh volevo dirvi di iscrivermi al mio canale io ho aperto un canale Stacy basta anche qui mamma mia sì pubblicità visto che va sul tg iscrivetevi tutti a Barbie My Life ho aperto appena un canale da poco mi raccomando vogliamo tanti iscritti noi ah amici allora le riprese sono state fatte l'intervista è conclusa anzi abbiamo pure un messaggio dalla nostra amica Stacy iscrivetevi tutti al suo canale anzi stasera lo faccio pure io appena torno a casa mi iscriverò anche io sicuramente andrò a vedere i suoi video iscrivetevi tutti a Barbie My Life mi raccomando eh allora adesso monteremo sul tutto poi faremo l'altro specialino dove sarete voi a scegliere la casa più bella dovete votare mi raccomando amici votate 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 e nei commenti sotto scrivete se vi è piaciuta di più la casa di ieri o la casa di oggi e dopo comunicheremo il vincitore della casa più bella perfetto io mi sembra di aver detto tutto non ho da dire più niente ci vediamo al tg dietro al bancore che diremo qual è la casa più bella mi raccomando amici votate 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 eh no Grazie a tutti. Grazie a tutti.